Ma i paesi sa perché ce l'hanno mandato i paesi europei? Perché queste imbarcazioni inglesi, francesi, spagnoli o di chi che sia vanno a prendere gli immigrati che lanciano l'SOS e li portano in Sicilia Quindi grazie all'Europa che ci aiuta Quindi non ho capito se siamo qui a fare una domanda O se i razzisti sono quelli che lasciano 9 milioni di italiani e di immigrati regolari che si comportano bene e che sono qui in Italia regolarmente senza lavoro magari dormire in macchina Però rapidissima, la mia domanda è ma se le regioni del nord dicono di no? E se tutte le regioni legittimamente potessero dire di no? Così come ha fatto la Serracchiari Potessero dire di no? Dove vanno questi migranti? Restano in Sicilia? Mi fate vedere poi la divisione Il problema è a monte Non vogliamo bloccare l'ESODO Questo è il problema Quelli che stanno qua, dove li mandiamo? Quelli che sono qua devono andare negli altri paesi d'Europa